Era così Rosario Olivatino, era così un giovane come noi, era così costruiva la sua vita con la preghiera e una grande umanità per la giustizia di una buona società. Era così Rosario Olivatino, con il sogno di una vita tutta da vivere, spezzato nel cuore del suo grande sogno, nel cuore di giovani come lui. Era così Rosario Olivatino, era così un giovane come noi. Grazie.